Ciao, bentornato sul canale, benvenuti alla serie Cargo of the Day. Questa è la settimana dedicata alle Lamborghini e oggi chiudiamo la settimana con un modello che ho cercato e ricercato da tutte le parti, vedevo che alcuni di voi l'avevano, io non riuscivo a trovarla, stavo impazzendo, ho fatto milioni, milioni, trilioni di chilometri, ho fatto il giro del mondo per trovarla, poi l'ho trovata sotto casa, guardate, la Lamborghini Miura SV del 71, non potevo non trovarla, non potevo lasciarla lì, tutti ce l'avevano, io no, e no, non andava bene, e quindi niente, l'ho presa al volo, l'ho presa al volo, anzi se ne trovassi un'altra la prenderei di nuovo, qualche utente non è rimasto soddisfatto di questo modello, però vederla così, diciamo, da lontano, dal di fuori, mi sembra interessante, dai, andiamo ad aprirla, dunque, questa è uscita proprio adesso, proprio negli ultimi case, infatti la 202 di 250, quindi sicuramente, diciamo, prossimamente si troverà forse più facilmente, io l'ho trovata nel supermercato sotto casa, sono andato a fare la spesa, perché craffio scarlet non ci sono, quindi sono andato da solo a fare la spesa, mi sono infiondato subito nel reparto giocattoli e l'ho trovata lì, se ne trovavo un'altra la prendevo, a dire la verità, la prendevo, perché una volevo tenerla chiusa, e invece oggi questa l'apriamo, ma soprattutto la confrontiamo un po' con quello che abbiamo, vediamo un po', dai, andiamo ad aprirla, eccola qua, qualcuno potrebbe chiedersi, ma perché quel colore arancione? E perché erano un po' i colori degli anni 70, gli anni 70 andavano un po' questi colori qua, arancione, verde, giallo, e quindi la rossa, la miura, facevano un po' in quelle colorazioni lì, guarda, un amico l'altra volta mi ha detto sul canale, ma non mi piace, ah, ce l'ho presa ma non mi piace, invece devo dire che è molto interessante, molto bella, guardate dietro, tutte le particolari che ha, la miura è una linea un po' particolare, è un po' particolare, è considerata la macchina più bella di tutti i tempi, è considerata dai grandi appassionati come la macchina più bella, il design più bello, un design Bertone, la macchina più bella in assoluto di tutti i tempi, effettivamente, diciamo, può essere discutibile, però, diciamo, a me piace la Lamborghini, diciamo, la miura, poi c'era la Daytona, sono delle macchine di quei tempi che erano veramente molto molto belle, e la Lamborghini effettivamente, anche a vederla davvero, questa Lamborghini miura è bellissima, questo modello in particolare non mi dispiace, non mi dispiace, pensavo peggio perché un utente mi ha detto, appunto, un amico su YouTube, ha detto, guarda, l'ho preso, ma sono deluso, ma sì, vabbè, a parte il fondo arancione che ci sta poco, però l'hanno fatto forse per, diciamo, mantenere la linea arancione, però vedete, c'è il sottoscocca grigio, gli interni grigi, no, è bella con la griglia dietro, bella, mi piace, poi soprattutto la griglia davanti, no, no, rappresenta molto bene la Lamborghini e la miura, eh? Ecco, a differenza, ad esempio, io ho questa e poi ho una versione invece della Matchbox, guardate qua, questa sì che è un po' buffa, questa è bellissima, ma è buffa, perché effettivamente è una linea un po' particolare, vedete, non è lo stesso disegno o lo stesso stampo, sono due macchine completamente diverse, però sono tutte e due Lamborghini miura, questa qua è una Matchbox, guardate che bella, le facevano col fondo di metallo, eh? Vedete, Lamborghini miura, made in England, Lesnar Production, questa è una Matchbox, Superfast, e qui l'anno di produzione non lo vedo, però sono negli anni settanta, eh? Inizia anni settanta, addirittura queste qua sono le prime, diciamo, serie con le ruote un po' più simili a quelle della Superfast, eh? Quindi è una via di mezzo tra le prime serie e le ultime della Superfast che hanno le ruote quelle più spesse, veloce, adesso questa qua, poverina, è un po' vissuta, l'ho trovata su internet e l'ho comprata subito, perché era ne un lotto e l'ho pagata anche poco, però vedete, in confronto, in confronto la Matchbox è molto più bella, la Matchbox, scusate, la Hot Wheels è molto più bella, sono due epoche completamente diverse, eh? Quindi non è che possiamo fare dei paragoni e, come dire, una produzione di cinquant'anni fa e una da adesso, quindi è cambiato tanto, è uno stampo diverso, però tra le due effettivamente non mi dispiace, non mi dispiace la Hot Wheels, quindi questa è la Matchbox addirittura che si apre le porte, eh? Guardate che bella che era, questa è bella perché, diciamo, è stata fatta cinquant'anni fa, quindi la sua bellezza è data dall'epoca che soprattutto è rimasta conservata per cinquant'anni, sì, c'ha le ruote un po' sgambesce, un po' sbilenche, però vabbè, l'ho presa in un lotto, l'ho pagata anche poco, questa qua, se la trovi tutta bene tenuta nella scatola originale, costa qualche centinaio di euro, eh? Io, diciamo, a me mi bastava avere questa versione qua, sono più che contento, più che contento, poi se capita l'occasione ne prendo anche una più bella, eh? Niente, quindi questa, e poi invece la confrontiamo con la versione AID, eccola qua, vedete? la Miura SV AID del 71, quindi è lei, eh? È lei, Miura Lamborghini SV del 71. Questa qua, anche questa, molto bella, però effettivamente è lei, è lei. Andiamo ad aprirla. Questa qua l'avevamo vista in il video, eh? Dedicato appunto alla Miura SV, che lo potete vedere che è un dito troppo grosso, la sua, eh? Lo mettiamo link lì. Guardate un po', lo stampo è lo stesso, lo stampo è lo stesso, questa sì ha le ruote più belle, molto più belle, perché addirittura ha le gomme, vedete, col profilo, con le scritte, però questa è un AID che costa anche molto di più, c'è la scritta O, Twills, una bella, diciamo, un bel colore, vedete? C'è l'AID lì sotto, però se la guardiamo, la confrontiamo, è uguale, cioè, è praticamente, è identica, è ben, tutte e due ben definite, ben definite proprio. No, no, questa c'è la ruota più belle, questa l'hanno fatta in verde e in giallo, adesso poi trovo, cerco la gialla, perché non posso non prenderla. Adesso andiamo a vedere un po' meglio la nostra inquadratura. Eccoli, un po' più dal basso, così si vede meglio, vedete? La macchina è la stessa. L'altra volta l'utente mi ha detto, ah, ma no, ma è brutta brutta. E dice, no, dai, è bella, non è malvagia, è bellissima, mi piace. Oh, sono contento. Quando mi ha detto, è brutta brutta, è detto, ah, vabbè, allora non la cerco. Però poi ha detto, ma no, sono curioso, sono curioso di vederla. Effettivamente, è la stessa modello, soltanto questa versione. A me la tenete conto è che questa, diciamo, se va bene la trovate è un euro. Io l'ho pagata due euro e cinquanta, di la verità, perché l'ho presa appunto nel supermercato sotto casa, ma quando ho visto il prezzo, cioè, neanche ho guardato il prezzo. Quando l'ho vista, neanche ho guardato il prezzo. Ho detto tanto, ho fatto talmente tanti chilometri in questi giorni per cercarla, che ne ho spesi di euro per cercarla e non l'ho trovata. Ho trovato tanti altri modelli, eh, che poi faremo nel prossimo video, faremo una bella serie, magari nel video di domani. Dai, nel video di domani facciamo tutti i nuovi modelli che ho trovato in questi giorni di caccia, che ho fatto veramente tanti, tanti chilometri, non essendoci Craffio e Scarlett e neanche mia moglie, e quindi ne ho approfittato, sono andato a fare un po' di giri. Adesso poi, quando vedete questo video, sarò già in partenza per le vacanze, li raggiungo, quindi la caccia per un po' starò bravo, eh. Poi ci rivedremo a settembre, però nel frattempo i video vanno avanti perché li sto registrando prima per proporli tutti durante le settimane, così non rimaniamo a secco di video. Eccoli qua, quindi questa è la Lamborghini Miura del 71SV. E questa chiude la settimana dedicata alle Lamborghini. Allora, qual è la Lamborghini più bella della settimana? Secondo me è questa. Poi c'è stata la Sesto Elemento, c'è stata l'Huracan, c'è stata la Centenario, una più bella dell'altra, però questa, essendo vintage, essendo vintage, a me piace molto, a me piace molto. Poi andate sul nostro Instagram, che così vedete tutte le foto, eh. Vedete tutte le foto che stiamo preparando, che sto preparando. Quindi niente, questa è la Lamborghini Miura SV del 71. Finalmente l'ho trovata, l'ho trovata ieri. Ieri al volo l'ho presa contentissimo. Sembrava un bambino di 7 anni, 10 anni, che aveva trovato il modellino che cercava. ero contentissimo, la gente mi guardava e diceva, ma sto qua è scemo, sto qua cosa rida? Ho trovato una macchinina e ride, è contento, fa i salti. Ma certo, è contento di poco, siamo eterni bambini, siamo eterni bambini, un po' di gioie ogni tanto per queste macchinine qua, dai. Piccole gioie. Niente, ci vediamo domani, allora, con il video di domenica, e poi la settimana prossima, che è la settimana di ferragosto, la dedichiamo alle macchine cabriolet. Prendiamo un po' di modelli cabriolet, eh, e poi andiamo avanti. Poi non perdetevi perché ci saranno anche un video dedicato. Allora, domani, 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 facciamo quello, poi le ultime novità. Poi facciamo una settimana dopo quella di ferragosto dedicata alle matchbox, eh, le matchbox in scatoletta. Quindi quelle vintage, non perdete la settimana delle matchbox in the box, chiameremo, matchbox in the box, che è la scatoletta. E poi andiamo avanti, ci inventiamo qualcosa, ne abbiamo tante da aprire. Quindi ci vediamo alla prossima, ci vediamo domani con un nuovo video, e ciao a tutti, iscrivetevi al canale, lasciate un commento. Ciao, ciao! Ciao! Grazie a tutti.